cari amiche e cari amici buona domenica un appello siamo a 137 mila e rotti come numero di followers mi piacerebbe raggiungere un sogno i 150 iscrivetevi e speriamo di arrivare a 150 ma sono giorni importanti perché appena uscito la mia puntata 12 11 e 12 del mio podcast ma sono giorni importanti anche per il milan per il milan che in dubai sono arrivati ecco la cronaca ho già appena parlato con nicola pozzi responsabile oggi dell'ufficio stampa la a dubai le ultime notizie dicono che il milan è arrivato questa mattina in questo momento siamo nel pomeriggio della domenica si stanno allenando c'è stato un discorso di pioli ha voluto tutti i giocatori intorno a lui anche i giocatori che non si stanno allenando sono quelli che sono venuti ma si allenano ancora a parte tutto intorno a lui un discorso credo motivo motivazionale per gli ulteriori stimoli a giocatori che francamente non hanno bisogno di stimoli perché sono giocatori seri appassionati e professionali e sono giocatori che oggi riprendono la cominciano la preparazione importante per mettere benzina per mettere benzina nelle gambe in vista di sei mesi straordinari che devono essere straordinari andiamo poi alla cronaca spicciola intorno a pioli ovviamente anche i giocatori che non sono nel gruppo ancora parliamo di megnan parliamo di calabria che anche oggi si allena parte non è non è ancora megnan era sottinteso come come anche Zlatan Ibrahimovic oggi in gruppo Seleme Kers che ormai è totalmente recuperato e come anche un giocatore che non era a Milanello nei giorni scorsi Benasser che ha aspettato la squadra direttamente in Dubai era già lì in vacanza e ha partecipato alla seduta con il gruppo arriveranno nei prossimi giorni De Chetelare, Chier, Dest parte da Milanello dovrebbe essere là intorno al 18 oppure rimane a Milanello lì la situazione non è ancora chiara e poi importante ci sarà l'arrivo in settimana non è ancora stato stabilito il giorno di Giorgio Furlani nella sua prima uscita ufficiale da nuovo amministratore delegato domani sono previsti oggi è stata c'è stato anche un incontro con le autorità locali domani doppio allenamento vedremo quando calabria entrerà a far parte del gruppo per quello che riguarda megnan credo se come pensano e sperano di farlo giocare un pezzetto di partita un tempo con Liverpool chiaramente nei prossimi giorni dovrebbe approfittando dei terreni asciutti e dei buona temperatura dovrebbe anche lui entrare in gruppo mentre per quello che riguarda Florenzi e Zlatan Ibrahimovic presenti anche loro in Dubai bisognerà aspettare ancora ricordavo la presenza di Paolo Scaroni Paolo Scaroni ha parlato questa mattina a una emittente dubaiana dobbiamo riferire anche questo ha parlato ovviamente dello stadio che è uno dei punti fondamentali anche e soprattutto del nuovo amministratore delegato Giorgio Furlani che ripeto arriverà in settimana in Dubai ma diciamo un punto fondamentale un punto importante è anche la capienza dello stadio che è la cosa che più ci sta a cuore ebbene dice 80.000 non riempiono mai San Siro spesso 75.000 noi vogliamo vogliamo arrivare a una cifra intorno ai 70.000 quindi una leggera riduzione e già sarebbe importante l'importante è evitare lo stadio da 60.000 da 55.000 secondo me che non sarebbe sufficiente per l'affetto e l'amore di tutti i tifosi soprattutto nelle grandi partite ma ormai non dobbiamo neanche differenziare perché vista la presenza anche del pubblico nell'azzurro dell'Inter oltre che quella e quella del Milan ormai c'è tanta voglia di Milan e lo stadio deve essere uno stadio grande 70.000 è già una cifra secondo me importante rispetto a quelle che si diceva qualche tempo fa 55.060 detto del diario il diario di Dubai andiamo avanti un interessante da approfondire un interessante articolo di tutto sport con l'attento e sempre preparato collega Federico Masini che si occupa oltre che della cronaca delle squadre milanesi qui da Milano si occupa anche di mercato è uno degli uomini di mercato di tutto sport è l'uomo di mercato di tutto sport e giustamente titola e ho messo anch'io il titolo un po ovviamente ispirato dall'articolo di Federico Masini ci sono 73 milioni io non so se nella prossima estate ci saranno 73 milioni perché serviranno innanzitutto 73 milioni che adesso stiamo un po forzando ma poi vi spiego 73 milioni di che cosa sono figli? i 73 milioni sono figli del riscatto di giocatori perché ci sono i 20 di Baccaiocco i 22 di Brian Diaz poi ci sono i 12 di Franks poi ci sono i altri 20 per Dest quindi 20 Baccaiocco i 22 di 20 di Dest 12 di Franks cosa farà il Milan? ha questi soldi perché partire già con una zavorra per giocatori da riscattare che sono importanti ma che certamente non sono i giocatori top della squadra beh è già un pensiero è già un problema ma incominciamo a esaminare le singole questioni Baccaiocco non verrà riscattato il giocatore non uscirà neanche nel mese di gennaio come vi aveva detto anche per questioni familiari prende ed economiche prende due milioni e mezzo all'anno sta qua c'è la sua famiglia si mette a disposizione della squadra Pioli non lo mette in campo lui continua a rimanere qua ad allenarsi ma il Milan non lo riscatterà e allora questi 73-74 già diventano 53-54 e cosa ne faremo dei 22 più 20 più 12 che appunto fa 54? allora partiamo da lontano per Dest ci sono 20 milioni il Milan a Maldini piace molto il giocatore vuole costruirci è un giocatore molto giovane vuole costruire su Dest il Barcellona l'ha messo un po' a parte ma come diceva giustamente Federico Masini il Barcellona ha bisogno ovviamente di introitare non è una società che a livello di cassa adesso sia floridissima allora che cosa farà il Milan? cercherà un approccio col Barcellona per capire se ci saranno delle riduzioni o delle dilazioni magari acquistandolo e pagandolo in due anni ma le cifre del Milan Dest secondo me potrebbe essere un investimento sul bilancio del prossimo bilancio intorno ai 7-8 questo bilancio 7-8 l'altro per acquisirlo a 15 ma non penso di più non penso di più però è un giocatore che intriga Paolo Maldini e quando Paolo Maldini vede qualcosa nei giocatori può darsi che Dest tutto quello che sto dicendo lo dobbiamo poi verificare in campo nei prossimi mesi se i giocatori deludono è chiaro che lo restituirà ma su Dest anche protagonista di personalità Maldini ci vorrebbe penso lavorare passiamo a Vranks, Vranks sono 12 milioni da dare al Wolfsburg anche lì dipenderà, è un giocatore molto giovane sul quale si può lavorare è un giocatore capitano della nazionale Under 21 Belga prossimamente probabilmente andrà in una nazionale tutta da rifare diventerà uno dei giocatori importanti che verranno convocati anche lì visto il costo e visto le prospettive può darsi che il Milan lì magari trattando col Wolfsburg troverà una soluzione anche perché il giocatore che se dovesse affermarsi nel Milan potrebbe eventualmente permettere quelle plusvalenze che è una parola grave ma in questo momento vuol dire semplicemente che l'hai comprato 12 e lo rivendi a 15 o a 20 e quindi anche sul piano economico potrebbe essere un affare lì Vranks il Milan ci lavorerà e adesso c'è il nodo cruciale Brian Diaz ormai il valore di Brian Diaz è assodato le valenze tecniche e tattiche sono assodate il Milan dovrebbe dare 22 milioni a Real Madrid che per ricomprarlo ne metterebbe 27 lì si tratta proprio di parlare con Florentino Perez con Carlo Ancelotti per capire che cosa voglia il Real Madrid se sia interessato o no al ritorno di Diaz primo punto secondo punto capire che cosa voglia Brian Diaz perché se Brian Diaz dice signori ritengo che la mia esperienza al Milan sia chiusa vorrei ritornare a Madrid e giocarmela là dopo che magari il papà che è anche il suo agente parla con il Real Madrid è chiaro che se ci fosse la volontà del giocatore di non rimanere al Milan chiaro che Milan chiuderebbe la questione tanto non è certo da verificare il rendimento di Brian Diaz conosciamo pregi e difetti i tanti pregi e i pochi difetti del giocatore un giocatore che oltretutto sul piano motivazionale sul piano ambientale è un giocatore che dà tutto grande spirito di sacrificio grande orgoglio grande ambizioni grande voglia lo sappiamo non è un numero 10 ideale per Pioli che cerca dal numero 10 magari anche un certo lavoro però quando è stato messo in campo ha risposto sempre in ogni caso ai dettami di Pioli lì si tratterà mi interessa anche il vostro parere 22 milioni vale la pena e anche lì il Milan magari cercherà se il giocatore mostrerà voglia di rimanere se il giocatore sarà d'accordo a rimanere il Milan può anche essere che ci lavori per cercare una riduzione dal Real Madrid a maggior ragione se al Real Madrid non interessi quindi sono tre elementi la decisione di Brahim Diaz la decisione del Real Madrid la questione economica quindi anche per quello che riguarda Brahim Diaz bisognerà verificare non tanto le prove sul campo perché ormai lo conosciamo ma è un altro giocatore da monitorare per quello che riguarda la conferma o no ma se il Milan dovesse esborsare magari non 22, 16, 17 stiamo completamente fantasticando 27 magari per Diaz lo teniamo poi c'è da darne 12 al Vosburg e da darne poi altri 10 più o meno ad est sono già non sono 74 Baccaioco non c'è 54 ma in ogni caso sono 40 milioni e se il Milan partisse da una zavorra di 40 milioni per Franks, Dest e Diaz io incomincio a avere dei dubbi perché Milan non avrà 90 o 100 milioni di investimenti per la prossima campagna acquisti sappiamo le linee della società le linee precise le linee alla ricerca di grandi campioni ma sempre sostenute da una sostenibilità da una rigorosità nei conti se si parte già da 30-40 milioni per questi tre giocatori non ci saranno tanti svolazzi quindi è una situazione da monitorare mi informerò che cosa possa essere la strategia del Milan perché se rinnovi a questi non hai le garanzie il prossimo anno di avere una super squadra perché il valore di Diaz lo conosciamo è un buon valore di Franks è una prospettiva di Dest è una prospettiva quindi servono al prossimo anno una grande fascia destra eventualmente vediamola davanti e poi un'alternativa Benasser questi sono i tre elementi sicuri e certi per fare un grande Milan il prossimo anno per un ulteriore passo sempre con la speranza di non perdere Benasser e Leao questo non lo do neanche è chiaro che non sia scontato ma è chiaro che se si perde Leao e Benasser cambia tutto ma noi stiamo ragionando oggi su un altro punto quindi 73 che poi sono 53 visto che Bakayoko non verrà riscattato non so se il Milan magari 53 no 40 sì se il Milan sarà disposto a sacrificarli subito per Franks Dest e Diaz io sinceramente non credo se si arrivasse a quelle cifre vedremo ma è un tema che oggi abbiamo affrontato nel primo giorno di lavoro del Milan in Dubai se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pelegatti attivate la campanella iscrivetevi aiutati siete partiti con me nel 2018 a pochi iscritti che sa se riusciamo ad arrivare a 150 sul mio canale YouTube la verità le suggestioni le ipotesi ma mi auguro spesso le verità